La situazione epidemiologica è in continuo miglioramento e questo rende soddisfatto il presidente della giunta regionale Francesco Acquarole che però continua ugualmente a raccomandare cautela. Lentamente migliorando nelle terapie intensive, nei ricoveri, nel numero dei contagi giornalieri e sicuramente è un aspetto positivo di questa fase ma non dobbiamo abbassare la guardia perché a fronte della situazione epidemiologica che sta migliorando dobbiamo dire che ancora ci sono realtà comuni che hanno un tasso di incidenza elevato sopra i 250 casi positivi settimanali su 100.000 abitanti. Siamo fiduciosi di riorganizzarci in una filiera istituzionale almeno per le riaperture del prossimo mese di settembre. In questo momento noi non vogliamo compromettere la situazione. Ricordiamoci che un mese fa c'era una situazione molto pesante nelle strutture ospedaliere con un'incidenza molto elevata nella nostra regione in tutta l'Italia. Quindi oggi vediamo sicuramente grazie alle misure messe in campo una vertiginosa riduzione delle terapie intensive e dei ricoveri. Però se da una parte quindi possiamo guardare con fiducia e con speranza alle prossime settimane, ai prossimi mesi, non ci dobbiamo dimenticare che la lotta al virus si fa quotidianamente, singolarmente, su ogni minimo comportamento. Presidente, più di un virologo, più di un medico, insomma, teme l'ondatina, teme che a giugno si possa ritornare in una zona rossa come è accaduto per la Sardegna. Ecco, cosa dobbiamo fare per evitare di arrivare a tutto questo? Beh, questo è il senso del nostro monitoraggio e questo è il senso della nostra azione di controllo quotidiano e degli appelli al rispetto delle norme e delle procedure consigliate, perché vogliamo evitare nelle prossime stagioni, primaverile e stiva, nel prossimo mese di giugno, di pagare magari uno scotto di un'apertura troppo anticipata. Io sul coprifuoco in una stagione come quella primaverile e stiva sono abbastanza orientato a dire che un'ora non è quella che fa la differenza.